Entriamo finalmente nel vivo della materia parlando delle mura serviane. In realtà si sbaglia a parlare di mura serviane, perché le mura non sono di Servio Tullio, ma sono il prodotto di una costruzione che avvenne durante il tempo della dinastia etrusca. Anche in questo caso Livio c'è di aiuto e ci racconta che fu Tarquinio Prisco ad iniziare la costruzione. E che Servio Tullio la completò. Tarquinio Superbo viene invece indicato come l'artefice di una serie di interventi atti a rinforzare i tratti naturalmente meno protetti del circuito murario. Le fonti ci attestano che sul lato est della città, che era il più debole ed esposto, a partire dal Quilinale, tra la Porta Collina, cioè una delle porte che si apriva nelle mura serviane, i cui resti sono stati visti sotto l'angolo nord dell'ex Ministero delle Finanze durante la costruzione dell'edificio a Via 20 Settembre, e la Porta Squilina, conosciuta come Arco di Gallieno, quindi fra queste due porte, le mura erano rinforzate con un terrapieno, un agger, cioè, e una fossa. Per essere più precisi, l'agger era costituito da un fossato, dalle mura vere e proprie, munite probabilmente di camminamento e parapetto, da un consistente terrapieno, e infine da un muro di controscarpa con funzione di contenimento del terrapieno. Tra queste due porte vi era la Porta Viminalis, che si trovava in corrispondenza dell'attuale Piazza dei Cinquecento, dove è la stazione Termini. Alcuni studiosi, in passato, hanno negato l'esistenza di questa cinta di mura del VI secolo, credendo invece che essa fosse stata costruita solo nel IV secolo a.C., epoca in cui invece le fonti ci attestano un restauro delle antiche mura regge. Questo perché c'era una corrente di pensiero primitivistica, cioè che sosteneva l'impossibilità dell'esistenza di un'entità politica e di un sapere tecnico in grado già nel VI secolo di realizzare opere come le mura o come le bonifiche di cui abbiamo parlato prima. Oggi però si rivaluta la questione e il dibattito si è spostato più indietro, pensando ad una città già nell'VIII secolo, con la costruzione delle mura di Romolo. Addirittura qualcuno sostiene che già nell'era del bronzo possiamo parlare di città. Fra l'altro le fonti non ci dicono che le mura non c'erano prima del IV secolo. Anzi, c'è un'opera di Cicerone, il quale ricordiamo è nato nel 106 a.C. e morto nel 43 a.C. L'opera è il Dedivinazione, molto importante perché in essa ci dice che prima dell'invasione gallica, avvenuta nel 390, si sentì una voce proveniente dal bosco sacro a Vesta, che dalle pendici del Palatino scendeva verso la Via Nova. Questa voce ammoniva i romani a ricostruire le mura e le porte in vista dell'attacco dei Galli. Dunque, se ci parla di ricostruzione, vuol dire che le mura erano precedenti. Inoltre, il dato archeologico, i resti stessi delle mura, sono a favore della datazione tradizionale del VI secolo. La riscoperta di alcuni tratti di mura è in gran parte conseguenza dei grandi interventi edilizzi di fine Ottocento, che hanno trasformato radicalmente i larghi settori di Roma. Il rinvenimento casuale dei resti, che è stato spesso accompagnato dalla distruzione, dal rinterro di interi tratti a causa delle esigenze della città contemporanea, è diventato un ostacolo all'intellegibilità delle antiche mura e nella maggioranza dei casi abbiamo una totale invisibilità dei resti. Andiamo a vedere adesso alcuni tratti di queste mura. Nella prima fase, le mura furono costruite in blocchi di cappellaccio. Il cappellaccio è un tuffo di colore grigiastro, usato in epoca arcaica, VII-V secolo a.C., che proviene dal suolo di Roma. Il termine cappellaccio è medievale e dispregiativo, perché si trova nel primo strato geologico sopra la Pozzolana. Siccome i cavatori medievali cercavano la Pozzolana, per arrivarci dovevano prima picconare questo strato, che chiamavano appunto cappello o cappellaccio in senso dispregiativo. In questa foto potete vedere dei blocchi di cappellaccio relativi a un piccolo tratto delle mura di VI secolo che si trovano nel centro di Largo Santa Susanna. Come vedete è molto piccolo, se uno ci passa davanti e non sa che ci sono, praticamente passano inosservate. Altri tratti in cappellaccio, stavolta di notevoli dimensioni, si trovano in via Salandra, all'interno di una inferriata di un palazzo costruito nei primi del Novecento, che continuano facendo angolo con via Carducci. Una piccola curiosità è che sulle mura di via Salandra trovate una targa con su scritto che sono mura di IV secolo. In realtà esse sono di VI secolo, ma la targa risale al periodo in cui, come dicevamo prima, molti studiosi non credevano ad una datazione così antica. La terza foto, questa qui, mostra il tratto di muro che doveva congiungersi con quello di fronte, che gira da via Salandra, cioè questo qui, e che adesso sono separati da via Carducci. Livio ci dice che nel 378 a.C. e nel 353 a.C. ci furono due interventi di restauro e ricostruzione delle mura, ma c'è chi pensa che sia un unico intervento durato parecchi anni, poiché l'occupazione gallica aveva dimostrato la debolezza delle antiche mura. Questo intervento del IV secolo fu fatto utilizzando il tufo di grotto scura, di colore giallastro, resosi disponibile perché le cave si trovavano nel territorio di Veio, la città etrusca a nord di Roma, che i romani conquistarono nel 396 a.C., anche se non mancano esempi di uso più antico. Un esempio di resti di mura in grotto scura ce l'abbiamo in piazza dei Cinquecento, vicino alla stazione Termini. Vi è una irregolarità nei blocchi che si spiega con il fatto che vi si addossava il terrapieno. La tecnica di costruzione usata nelle mura di IV secolo è quella di disporre i blocchi alternativamente per testa e per taglio. L'altezza complessiva delle mura era di circa 10 metri e lo spessore a volte superava i 4 metri. La lunghezza della cinta muraria invece era quasi di 11 chilometri. Il lavoro fu svolto da molti cantieri che lavoravano contemporaneamente e questo si può notare dai punti di sutura dove i tratti eseguiti da ognuno dei cantieri si toccano ma non combaciano perfettamente. Inoltre i blocchi di grotto scura hanno dei marchi di cava che probabilmente servivano alla gestione e all'organizzazione dei cantieri. Un lungo tratto in grotto scura con qualche blocco di tufo di Monteverde e di Fidene è in via di Sant'Alselmo. Alle sue spalle ci sono tracce di un terrapieno e potrebbe trattarsi di un rifacimento di III secolo. Infatti altri restauri ci furono nel corso della seconda guerra punica nel 217 e nel 212 avanti Cristo e probabilmente fu una veloce messa in opera dei blocchi a fronte dell'imminente minaccia di Annibale più che una vera fase edificatoria. Poi un altro restauro è attestato nel corso della guerra civile tra Mario e Silla nell'87 avanti Cristo. La città venne fortificata ulteriormente con dei fossati e sulla cresta delle mura si disposero le artiglierie cioè le macchine belliche che sostanzialmente erano catapolte. In questa foto vedete un tratto di mura su Viale Aventino in tufo di grotto scura con un arco in tufo della Niene che probabilmente serviva per la messa in opera delle catapolte cioè l'arco serviva per far entrare il braccio della catapolta. In questi ultimi restauri furono utilizzati anche altri tipi di tufo. Abbiamo nominato quello della Niene di color rossastro e proveniente dalle cave di Torcervara in uso dal VI secolo avanti Cristo il tufo di Monteverde di colore marrone chiaro ed estratto dalle cave ai piedi del Gianicoli alla Magliana anch'essi in uso dal II secolo il tufo di Gabbi simile al peperino con cui era fatta la porta Viminalis lo si è potuto constatare dai resti il tufo di Fidene che è riconoscibile per delle inclusioni di scorie nere che è rimasto in uso fino alla fine del II secolo avanti Cristo. Con l'avvento al potere di Augusto e il conseguente periodo di pace si pensa che ci sia stata una defunzionalizzazione del circuito murario che porta Roma ad essere una città senza mura sostanzialmente e questo fino alla costruzione delle mura aureliane avvenuta tra il 271 e il 275. Comunque varie linee di confine ne delimitavano l'area come la cinta d'Aziaria creata in Età Flavia. Grazie. 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 Grazie.